Musica Bene, rieccoci seconda parte di Sport Italia Mattino come promesso avremo modo adesso di approfondire un'ampia parentesi dedicata al volley volley giocato, volley anche chiacchierato o anche volley visticciato a seconda di quelli che sono i momenti anche perché come spesso accade nel mese di giugno oltre all'aspetto tecnico del volley, parliamo di nazionali, maschili e femminili a proposito complimenti alla nazionale di Berruto che ha iniziato molto bene la World League con quattro successi in altrettante gare adesso si sta cercando anche di delineare quelli che sono i quadri e soprattutto quali saranno le formazioni che prenderanno parte ai vari campionati di A1 e A2 al maschile e al femminile qua ospite con noi abbiamo il presidente in orario della Power Volley Milano parliamo di Lucio Fusaro che ci ha raggiunto e ha fatto una bella levataccia anche lui questa mattina, buongiorno presidente buongiorno a voi di cosa parliamo, di quali aspetti parliamo anche perché veramente abbiamo tanti, tanti, tanti argomenti legati a quello che è il periodo del volley di mercato ne parleremo magari dopo anche se a dire la verità i giochi sono quasi fatti se non per due o tre big bisogna capire se andranno a giocare o in Turchia o in Russia dobbiamo capire anche la definizione di quella che sarà la A1 il prossimo anno sarà una stagione particolarmente significativa per la A1 perché è passata la proposta di questa Superlega insomma si parla di franchigie e si va a tutelare quello che è la territorialità e la continuità dei vari progetti Sì, questa grande novità dal prossimo anno è la nascita della Superlega la Superlega avrà una serie di regole che sono state approvate questa settimana molto interessanti che permetteranno di generare un programma duraturo nel tempo di qualche anno in maniera che così si possano creare in tutte le città delle basi solide per poter poi proseguire un'attività di vertice le principali regole della Superlega sono che intanto per cominciare esisteranno delle licenze sul concetto NBA americano delle licenze che verranno rilasciate a una serie di squadre quelle che si iscriveranno quest'anno al campionato e che prevederanno una serie di franchigie quindi per continuare a mantenere questa licenza bisognerà rispettare una serie di regole che sono presentare una squadra decente non arrivando ultimi per una serie di anni consecutivi ricordiamo anche che non ci sono più le retrocessioni questo è il secondo anno in cui non ci saranno le retrocessioni questo è un tentativo per cercare di dare continuità a quelli che sono i progetti certamente poi esisteranno una serie di richieste per esempio ci dovrà essere un palazzetto minimo di un certo numero di spettatori con una capienza media di un'ottantina dell'80% tale per cui esisteranno quindi queste serie di franchigie che ci permetteranno di avere un po' un palazzetto e delle regole che possono permettere di operare nel campo della Serie A a livello della Superlega Presidente, ha detto palazzetto mi viene in mente quello che è un altro dei temi o forse nel cappello introduttivo mi sono dimenticato di citare anche quella che è la questione legata al Palalido questo riguarda anche i tifosi del mondo del basket perché il Palalido è già stato ribattezzato come Pala AJ e bisogna capire se sarà il teatro delle gare di Milano o se Milano continuerà a giocare al Forum o se ci saranno trasferimenti ma noi parliamo di pallavolo com'è la situazione dei lavori adesso l'attraverso da capocantiera io appartengo a un'altra generazione nel 1975 o 76 quindi purtroppo 40 anni fa ero nel sestetto della squadra che è capitata che è sbarcata in Serie A a Milano che ha portato Milano in Serie A con il mitico Gonzaga lì noi giocavamo giocavamo al Palalido era a casa nostra ci giocava l'Allonestà che era l'altra squadra di Milano di basket ci giocava Simental ci facevano degli incontri di box questo era tutto quel contorno che faceva sì che lo sport fosse nel centro di Milano c'era la metropolitana vicina ci potevano arrivare i ragazzini la domenica diventava abbastanza all'epoca che si giocava di sabato era abbastanza interessante essere collocati nel centro di Milano io immagino che questo problema che si sia generato con l'abbattimento del palazzetto ha un po' inficiato tutti questi sport cosiddetti minori in realtà che cosa succede? io ho fatto un'analisi sono sempre stato vicino allo sport con sponsorizzazioni con una serie di attività anche in altri sport attraverso le mie società però il vero problema che si è posto e che si sta ponendo e che speriamo si stia risolvendo è stato quello per il quale Milano non aveva non solo un palazzetto ma non aveva un velodromo non aveva una pista di atletica decente non ha una piscina olimpica non ha un campo di hockey San Siro è quello che è quindi insomma io credo che questo non sia solamente un aspetto legato agli sport minori ma sia legato a un ragionamento di civiltà e di crescita anche morale e sociale e noi abbiamo i ragazzi che potrebbero fare sport ma non trovano uno sbocco perché non hanno dove praticarlo e quindi il fatto che il palazzetto possa essere pronto come sta garantendo l'amministrazione comunale per i primissimi mesi per i primissimi giorni di ottobre di ottobre permetterà di poter tornare a giocare a Milano e di far sì che Milano possa avere la grande pallavolo direttamente al Palalito che è casa sua naturale infatti ci sono anche dei ricordi particolari io non mi spingo fino al 75 perché sono nato un paio d'anni dopo però la storia del Gonzaga lo con forza un po' la conosco però è stata anche la sede dell'ultima finale della squadra di Milano allora con Montani in panchina Gorbic al palleggio il giovane Zlatanov un po' tenerezza a pensare a quel bel periodo quando Milano chiuse in seconda posizione e il Palalito si era rinnamorato e si era riempito per il volley e questo non capitava a Milano da almeno nove anni da quella che è stata l'esperienza o parentesi fortunata o sfortunata del consorzio Milan certamente insomma io mi auguro che noi non si abbia quella pressione addosso per vincere lo scudetto il primo anno sono anche cambiati i tempi sono cambiati i tempi anche perché adesso sono cambiate anche quelle che sono le gestioni finanziarie da parte delle squadre basta soltanto pensare a quella che è stata la stagione di due squadre che hanno lottato e hanno vinto tanto nel corso degli ultimi anni faccio l'esempio di Cuneo ormai sta sparendo dal panorama e faccio l'esempio di Trento che si è ridimensionata tantissimo lo scorso anno quindi il volley va a seguire anche quello che è l'andamento economico finanziario del nostro paese non solo tranne pochissimi casi certamente il nostro sport e lo sport in generale non è avulso da una situazione economica nazionale e direi mondiale quindi è evidente che nei momenti di difficoltà le prime cose che si fanno che si fa le società riducono gli investimenti pubblicitari quindi gli sponsor abbandonano un po' certi sport lo sport in generale quindi io credo che in questo momento il fatto che Milano possa tornare con un progetto sostenibile con un progetto sostenibile io continuo a ribadire questo ragionamento voglio stare vicino ai miei a questi ragazzi che ci stanno provando io non sono né il titolare della squadra né sono solamente a capo di un gruppo di sponsor e quindi forse certamente il principale ma che vogliono stare vicini a questi ragazzi che stanno provando a riportare la grande pallavolo partendo dal basso con una serie di progetti che sono legati al Power Volley Net che è tutto quel sistema di educazione nelle scuole dove noi mandiamo i nostri giocatori e creiamo dei programmi di sviluppo favorendo anche con una serie di programmi programmi vuol dire abbonamenti a prezzo ridottissimo per i ragazzi in maniera che questi si avvicinano al grande sport e possono pensare un esempio positivo e quindi questo possa essere anche per loro un esempio che poi possono trascinare sul campo e a casa loro nella loro scuola abbiamo un altro progetto molto interessante di collegamento a tutte le società minori dell'Inter milanese e non solo perché ci siamo estesi anche in altre province dove a 24 mesi dalla nascita e questo è un dato che io vorrei sottolineare il Power Volley nasce 24 mesi fa e in 24 mesi riesce a sbarcare un progetto in a uno io credo che il lavoro che hanno fatto i dirigenti Carlos Lasores in particolare sia stato straordinario ovviamente noi gli sono stati vicini io in particolare ringraziamo anche Mirko Gatti oltre a essere un amico Mirko Gatti non solo è un amico vostro ma certamente è anche il direttore sportivo della squadra il quale in questo momento è molto impegnato per creare creare una squadra che sia all'altezza delle aspettative ribadisco ho detto ieri sera in una riunione che è terminata peraltro a luna di notte ribadisco che noi dobbiamo essere in condizioni di generare progetti sostenibili senza illudere nessuno ma facendo quelle cose che nell'ambito di una programmazione che ti viene concessa del potere non retrocede e dalle altre cose possa arrivare in qualche anno a portare Milano a competere per lo scudetto discorso Super Lega l'amico Franz Segala da Trento ha mandato quelle che sono le considerazioni dell'ex presidente della Lega e attuale direttore generale della Trentino Volley Bruno Darè sentiamo e poi facciamo un commento in merito a quello che ha detto il veterano del volley italiano credo che ieri sia stata presa una grande decisione una grande delibera che forse non è ancora ben chiara a tutto il nostro movimento ma questo è un passaggio epocale per una pallavolo che ha deciso di cambiare di trasformarsi inserendo nel nostro ordinamento sportivo nell'ordinamento e nella gestione dei nostri campionati questo concetto di franchigie che è molto molto nuovo per tutto lo sport italiano ritengo che sia una grande opportunità perché il regolamento sarà ferreo ma sicuramente gestibile e soprattutto dovrà essere stimolante per creare nuove forme di gestione nuove capacità organizzative e dovrebbe anche essere importante per tutte le società e per le aziende sponsor perché questa franchigia di 5 anni dà sicuramente a tutte le società iscritte a questa superlega la possibilità di programmarsi per 5 anni e da qui a 5 anni e quindi di poter prendere tutte le misure necessarie in questo arco di tempo per crescere per consolidarsi sul territorio e per crearsi davvero un futuro sano ed equilibrato anche da un punto di vista finanziario e non solo tecnico e anche da Rea ha parlato del territorio è un qualcosa di importante ed è uno degli aspetti che è uscito ed è emerso da quella che è stata l'ultima riunione di Lega da Rea ha detto ieri invece è l'altro ieri perché il servizio ovviamente ci è arrivato con 24 ore di anticipo rispetto a quello che era il nostro appuntamento già fissato di questa mattina per parlare di volle intanto sto guardando su YouTube alcune immagini dove c'è anche lei l'amico Salvaiello lo speaker insomma ci sono tanti amici in questo caso ricordiamo che insomma la pallavolo è uno sport che tanto mi ha dato e tanto spero di darne ancora ecco qua si vede anche la sua immagine torniamo a parlare di cose che riguardano il territorio di Milano ricordiamo quello che è successo ricordiamo quella che è stata una polemica che si è letta anche circa 6 o 7 giorni fa sulla Gazzetta dello Sport Milano e il territorio limitrofo ha due squadre la Power Volley è di Milano la squadra a quale lei fa capo e poi c'è la Vero Volley che è una squadra che ha come radici la città di Monza per chi non conoscesse Monza penso 2 o 3 in Italia è praticamente attaccata a Milano Monza si è qualificata attraverso il percorso della 2 la Power Volley ha esercitato un diritto legittimo che si è visto soprattutto in tantissimi anni di volley cioè quella dell'acquisizione del titolo sportivo perché si è arrabbiata la presidentessa della Vero Volley? Beh io ho delle considerazioni del tutto personali che tengo per me immagino però che uno dei motivi che si sia che abbia scatenato un po' questa inaspettata ammetto inaspettata e secondo me anche fuori dalle righe polemica da parte della dottoressa Mazzari è stato il fatto che noi si potesse giocare in attesa del palalido eventualmente se arrivasse a ritardo si potesse giocare a Desio quindi nella provincia di Monza in realtà noi abbiamo avuto questo incontro con il sindaco di Monza il quale ci ha invitato dicendo siccome viene a Monza scusa a Monza col sindaco di Desio e che ci ha invitato dicendo siccome anche l'Armani quando il palalido è pieno viene a giocare a Desio perché non ci venite anche voi che mi fa piacere e quindi questo è stato un po' il ragionamento era uno dei contatti che noi avevamo questa cosa si è risaputa e ha scatenato le ire della signora che ha pensato che noi derumassimo uno spazio diciamo così di visibilità di pubblico probabilmente anche di sponsor che in realtà non è così io l'ho trovata fuori dalle righe perché fra l'altro ero negli Stati Uniti ricevo la gazzetta leggo questo articolo vedo che parlano di noi e una volta tanto trovo che non siamo noi a parlare di noi ma qualcun altro che si impippa sulle cose si impiccia degli affari nostri e improvvisamente pontifica sul nostro progetto io lì mi sono trovato ovviamente costretto a dover rispondere precisando alcuni aspetti il primo il primo che credo che ognuno debba guardare a casa propria che cosa fa e come si mette il secondo quello per il quale secondo me questa è fondamentalmente una risorsa per il territorio io immagino che se l'Inter o il Milan dovessero retrocedere come peraltro è successo da qualche parte qualche anno fa insomma non sarebbe più lo stesso lo derby non avrebbe più il senso di essere il derby di serie 1 immagino che quando ci sono i derby e le sane rivalità questo possa fare esclusivamente solamente bene al movimento tutto intero ho finito l'intervista alla gazzetta dove ho replicato piuttosto piccatamente però ho finito dicendo siamo nel paese di Don Camillo e Pepone e quindi ci sta nel paese dei mille campanili che questa rivalità possa essere più o meno accentuata se saremo intelligenti è certamente una risorsa per il territorio ecco io poi la vorrei finire lì perché tutto sommato noi stiamo cercando di portare un progetto a Milano e noi stiamo cercando di oscurare nessun altro anzi al contrario c'è già qualche nome in ballo per la prossima stagione? ce ne sono ma li lascerei a Mirko Gatti che è direttore sportivo noi abbiamo già però a quest'ora non vorrei chiamarlo magari è immerso nel traffico se può farmi lei dei nomi? no io posso dire solamente che ieri sera nelle riunioni abbiamo confermato l'eneratore dello scorso anno che allenerà per la prima volta in A1 quindi ci permetterà di essere anche con lui un'esperienza nuova abbiamo confermato l'alzatore Giordano Matera mitico capitano dello scorso anno personaggio che ha già fatto una dozzina d'anni di A1 ha giocato anche in nazionale ha giocato anche in nazionale quindi abbiamo confermato lui probabilmente quasi certamente confermeremo il centrale Valsecchi che è un ragazzo di 23-24 anni quasi sicuramente credo confermeremo Benz che è stato l'opposto dello scorso anno e intorno a questi 4 stiamo cercando di creare una serie di rinforzi che possono essere che possono essere utili a un campionato di A1 che ovviamente è tutt'altro livello rispetto al campionato di A2 Profitto della sua presenza per chiudere la parentesi dedicata al volley e poi per salutarle augurarle una buona giornata andando sulla Gazzetta dello Sport perché stiamo giocando bene stiamo giocando veramente bene sicuramente non è molto professionale il mio modo di dire e di commentare quella che è la situazione attuale della nazionale italiana di Berruto però un gran bel inizio di World League è evidente 4 partite 4 vittorie le finali saranno in Italia dunque se avete voglia a luglio ci saranno le Final Six in quella di Firenze cosa sta succedendo nella nostra nazionale sente aria di mondiale visto che di mondiale l'Italia è nel 23 e l'ultimo è stato nel 98 è il momento di alzare la quarta coppa sono un po' troppo come dire ottimista ed esagerato io scaramanticamente non confermo il fatto che che questo possa avvenire certamente certamente la nostra nazionale dopo avere battuto il Brasile dopo avere battuto l'Iran che qualche tempo fa ci aveva dato qualche dispiacere e penso che sia una fra le squadre più importanti al mondo e quindi se la possa giocare decisamente soprattutto approfittando anche del fattore campo a Milano nel mese di luglio io credo che questo sia anche frutto di un enorme lavoro che ha fatto la federazione nel tempo e che abbia messo in condizione la federazione Palavola essere una delle poche che ancora vince qualche medaglia alle Olimpiadi con i giochi di squadra perché questo lavoro parte da lontano il centro pavesi qua a Milano è un centro dove noi giochiamo abbiamo giocato lo scorso anno in A2 e che sarà inadeguato per la 1 ma che però ci ha messo in condizione di vedere che cosa sta facendo la federazione per esempio il progetto dove il progetto che ha la federazione di prendere tutti i ragazzi e le ragazze di una certa età e mettere all'interno di un team e chiamarlo Club Italia farli vivere insieme farli giocare insieme farli fare un campionato l'anno prossimo di A2 dove non retrocederanno fargli fare già delle esperienze in maniera precoce credo che queste siano esattamente le basi per arrivare ai successi che in questo momento ha la nazionale italiana nel caso doveste avere dei problemi il prossimo anno per il parazzetto potete fare come fa la nazionale di Placì la Bulgaria che giocherà quest'oggi a Sofia nello stadio del Levski contro la Serbia lo stadio del calcio intendo se vuole chiedere San Siro io sono stato all'incontro l'altro ieri con l'assessore di Minano con l'assessore Chiara Bisconti la quale ha certamente dimostrato tutto il suo impegno nel far funzionare le cose ci ha confermato che le consegneranno un impianto alla fine di luglio e questo le ha confermato il costruttore per poi proseguire con i permessi e tutte le finalizzazioni per la fine di settembre ricordo che il campionato di A1 comincerà il 20 di ottobre quindi ci sono un po' di mesi perché questo possa essere fatto nella peggiore giocheremo le prime due o tre giornate giocheremo fuori da qualche parte ma immagino che si debba credere all'assessore perché insomma non dimentichiamo che Milano è sempre la città più ricca di una delle regioni più ricche di uno dei paesi più ricchi del mondo e quindi però è una delle città diciamo di una certa caratura di una certa grandezza con meno impianti con meno impianti ma credo che questo sia una sensibilizzazione che in questo momento hanno tutti e non solo in previsione dell'Expo Presidente io la saluto le auguro una buona giornata grazie per la piacevole chiacchierata ci vediamo magari nel corso dell'estate così possiamo cercare anche di capire quelli che sono i quadri della formazione della Power Volley Milano buona giornata buona giornata a voi grazie grazie a tutti